Un grande saluto a tutti i tartufai e agli organizzatori della mostra del tartufo bianco pregiato a Città di Castello. Un bacio a tutti voi che siete in questa città meravigliosa dove sono nata e che mi è sempre tanto cara. Con questo videomessaggio Monica Bellucci ha voluto essere in qualche modo vicina alla 44esima edizione del Salone Nazionale Tartufo Bianco Pregiato e alla sua città. Sono stati tre giorni ricchi di eventi dove le strade del centro storico sono state per base dal profumo inebriante del tartufo bianco. Siamo venuti in un bosco qui alla periferia della città che produce tartufo bianco e anche in parte tartufo nero. Abbiamo messo in cerca i cani e hanno dato qualche risultato via nonostante l'annata sia stata molto avara finora a causa della siccità estiva. Però stamattina abbiamo trovato 3 o 4 neri e addirittura 5 o 6 trifole. Ci parte la mattina di buon'ora, molto presto. Poi si raggiungono le zone di produzione della trifola in quanto poi la valtiberina è piena. Iniziamo la cerca che può essere fatta sui fossi, può essere fatta su dei campi abbandonati, su dei terreni più che altro di natura argillosa. Ognuno ha i suoi luoghi preferiti che non vanno svelati. I luoghi del cuore mai, mai. Anche perché vengono spesso tramandati di padre in figlio, di nonno in nipote. Quindi sono quei posti segreti magari dove prolificano dei tartufi di dimensioni eccezionali. Da noi sono stati fatti dei ritrovamenti anche quest'anno di tartufi da mezzo chilo, 700 grammi. Questi diciamo nascono su dei posti un po' particolari che ogni tartufaio ha a cuore insomma. Ed ora si pensa già al futuro. È un'occasione anche per parlare del 2025 perché molto probabilmente abbiamo visto come sta andando. Abbiamo delle idee importanti che sono quelle di far vivere questo evento anche in altre zone della città. Perché Città e Castello lo merita, Città e Castello città con rinascimentale, città con la sua arte, con la sua storia. Deve essere vissuta nel suo complesso.